buongiorno allora questa è la nuova nuova si fa per dire ma rapax sport che ha già vinto tre campionati federali italiani 2021 22 23 ed è un un brevetto assolutamente innovativo già concesso in molti paesi non presentato concesso in molti paesi del mondo e sostanzialmente sono tre le innovazioni intanto è tutta fatta dal pieno le innovazioni sono le seguenti allora qui abbiamo una chiusura assolutamente rivoluzionaria che è questa è un blocchetto rotante aperto chiuso ecco il blocchetto rotante questa è la canna in linea questo è il blocchetto rotante che lavora su due piste cammate che impegnano questi due risalti da due millimetri e mezzo di diametro e questo è il funzionamento ecco il funzionamento quindi la camma fa ruotare il blocchetto abbiamo canna scaricata sia in camera di cartuccia che a 120 gradi anteriormente e costituisce un'altra funzione fondamentale è quella della pompa di calore ossia di estrazione termica cosa succede la parte cilindrica che fuoriesce crea una depressione e scopre le parti scaricate e aspira aria fresca anche quando si chiude maggiorando la volumetria di aria fra canna e carrello quindi un'estrazione termica molto più efficiente di una normale canna a chiusura basculante la velocità dell'azione è assolutamente senza precedenti ed è anche il segreto fondamentale per cui l'arma ha vinto sistematicamente da tre anni a questa parte grazie a tutti grazie a tutti